Buongiorno a tutti, scusate se abbiamo interrotto i lavori del cantiere, mi scuso innanzitutto con gli operai che stanno realizzando quest'opera e l'opera parallela. Io cerco di essere il più breve possibile. Parliamo in linguaggio della franchezza e della chiarezza. Per troppo tempo abbiamo buttato via delle occasioni, le abbiamo sprecate. Le abbiamo sprecate per un motivo filosofico, perché qualcuno ha pensato di far vincere la cultura dell'austerity e quindi ha dimezzato gli investimenti in opere pubbliche in Italia. Graziano, il Ministro del Rio ricorda sempre che siamo passati dai 40 miliardi del 2007-2008 ai 20 miliardi del 2012-2013. Cioè un ragionamento filosofico, secondo me suicida, che ha portato alla riduzione di 20 miliardi di investimenti all'anno. E dall'alto c'è stato un problema ulteriore, una grande attenzione al nord e una scarsa attenzione al mezzogiorno. Il combinato disposto, una parola che va di moda ora, di questi due eventi ha portato la Sicilia ad accumulare da un lato un ritardo infrastrutturale che tutti conosciamo e dall'altro una carenza occupazionale che è un problema reale, straordinario, fortissimo. Noi abbiamo ormai due Italie, un'Italia che già cresce in termini di posti di lavoro più del periodo pre-crisi, è il nord, è un'Italia che continua ad arrancare, ed è il sud. Do dei numeri perché non paia questo un discorso campato in aria, 656 mila posti di lavoro in più con il Jobs Act, 700 mila inattivi in meno, che è importante almeno come il primo dato, e la cassa integrazione che improvvisamente crolla. Questi tre numeri sono molto rilevanti, ma a fronte di questi tre numeri dobbiamo registrare un'assoluta differenza tra ciò che accade al nord e ciò che accade al sud. E allora di che cosa stiamo discutendo oggi qua? In questo cantiere che è il cantiere, lo ha detto Armani e lo ringrazio, più importante di ANAS, almeno in questo momento, stiamo cercando di riflettere su un modello diverso di sviluppo. Sarebbe bello che ciascuno di noi arrivato al governo potesse portare avanti i propri sogni. Noi non abbiamo avuto questo lusso. Il nostro dovere istituzionale è stato realizzare i sogni degli altri, la variante di Valico, la Quadrilatero, la Salerno-Reggio Calabria che finalmente il 22 dicembre sarà inaugurata, 22 dicembre di quest'anno, per essere chiari, che non vorrei che ci fossero dei dubbi. Abbiamo dovuto sistemare le opere pubbliche che erano rimaste a metà. Ma nel farlo vorremmo dare un indirizzo strategico all'investimento sulle infrastrutture. In particolar modo questo è valido per la Sicilia. Ecco perché oggi, lo dico alla stampa siciliana e non solo, i 470 milioni di euro sbloccati sono un passo in avanti gigantesco sulle strade di questa regione. Non sono l'unico passaggio. Il Ministro del Rio è qui, stasera sarà a Marsala, perché non dimentichiamo la necessità di investire sulla provincia di Trapani e in particolar modo sull'aeroporto di Trapani. Tra qualche ora saremo a Palermo con fincantieri, ma non soltanto con fincantieri. C'è una necessità di investire sui porti e su tutta l'economia del mare, che è stata ingiustamente tagliuzzata negli anni passati dalla mancanza di strategia e dalla visione. Siamo stati ieri a Catania, dove l'aeroporto viaggia con ritmi impressionanti, anche grazie al buon lavoro. Abbiamo a Ragusa ieri sottolineato come la Catania-Ragusa, che come sapete è un project, ma sulla quale siamo disponibili a trovare tutte le forme per dare un sostegno e una mano, sia finalmente una realtà e non più una promessa. Insomma, è come se la bella addormentata si fosse svegliata. Non c'è stato bisogno del bacio del principe del Rio, non c'è stato bisogno di un investimento particolare, c'è stato bisogno di serietà e di rigore. Oggi noi firmiamo l'APQ, l'accordo di programma quadro, che è particolarmente rilevante perché sblocca dei denari che erano fermi. Dico alle lavoratrici e ai lavoratori che siamo orgogliosi della loro professionalità e che non lasceremo che l'Italia commetta gli errori del passato, come è accaduto quando si è deciso di tagliare sulle opere pubbliche, perché chi taglia sulle opere pubbliche sta tagliando il suo futuro, sta tagliando la sua prospettiva di crescita. Ma dico anche che se ieri, per la prima volta, dopo anni, l'Italia nel terzo trimestre ha fatto registrare un PIL superiore alla Francia e alla Germania, intendiamoci soltanto nel terzo trimestre, ma se ne per la prima volta dopo anni c'è un segnale più dell'Italia, maggiore della Francia e della Germania, questo è l'indice che una parte del Paese si è già rimesso in moto. Se riusciremo a far ripartire finalmente il Mezzogiorno e il Sud, saremo nelle condizioni di diventare la locomotiva d'Europa. Per far questo abbiamo bisogno di due cose. Grande cooperazione istituzionale con il territorio siciliano. Io penso che cosa significhi arrivare da Caltanissetta ad Agrigento, ne parlavo prima con i sindaci, in un arco di tempo molto ristretto. Vuol dire togliere dall'isolamento alcune realtà e vuol dire per le aziende, lo dico alla CMC e non soltanto alla CMC, la volontà di lavorare insieme. C'è stata una cultura in Italia per qualche anno e talvolta c'è ancora, per cui se ci sono dei problemi sugli appalti si arrestano i lavori. Io sono dell'idea che se ci sono dei problemi sugli appalti si arrestano i ladri, ma i lavori bisogna mandarli avanti, perché se siamo l'unico Paese che anziché arrestare i ladri arresta i lavori, noi avremo un gap infrastrutturale che è quello, lo dico pensando a chi tra voi lavora ancora sulle metropolitane, per esempio a Catania, per il quale abbiamo come chilometri di metropolitane in Italia un numero inferiore alle metropolitane di Madrid, che con tutto il rispetto e l'affetto e l'amicizia per i nostri amici di Madrid sta cosa non può mica funzionare, non ci può mica andare bene. E allora, ben venga il lavoro su questo cantiere, i soldi ci sono, gli alibi stanno a zero, abbiamo rimosso tutti gli ostacoli. Non so se si chiama Barbara o no la struttura che ha rimosso gli ostacoli, che ha aperto una galleria diversa tra le procedure romane e l'arrivo dei quattrini sul territorio. Chiamatela Barbara, chiamatela Graziano, chiamatela come vi pare. Quella straordinaria struttura è la struttura che permette oggi di venire qui in Sicilia e di dire che la nostra parte la stiamo facendo. Non c'è soltanto questo, c'è tutto il tema delle ferrovie, c'è tutto il tema dell'accelerazione delle linee ferroviarie, anche perché si parla di accelerazione. Una decelerazione in Sicilia sarebbe impossibile, visto il livello della struttura ferroviaria, e io penso che se riusciremo finalmente a dare ai cittadini tempi certi e responsabilità di chi decide, avremo fatto un servizio e un'opera di impegno nei confronti delle persone. Camminando e venendo in qua, un operaio mi ha detto come facciamo a credere che questa sia davvero la volta buona? Ed è una grande domanda, perché centinaia di persone, migliaia di persone sono state prese in giro nel corso degli ultimi anni. Si è fatto credere che finalmente sarebbe iniziato il futuro ed in realtà si continuava a vivacchiare sul presente. Se c'è una cosa di cui siamo orgogliosi è che finalmente la stagione delle chiacchiere è finita. Qui ci sono i soldi, oggi altri 470 milioni vengono liberati. Compito vostro, cari amici dell'ANAS, è spenderli bene e sono certo che lo farete. Compito dei lavoratori è dimostrare la loro perizia, la loro qualità e noi abbiamo i lavoratori migliori del mondo nel settore delle infrastrutture, ingegneri, architetti, geometri, operai. Abbiamo delle persone che sono in grado di renderci orgogliosi del tricolore italiano e abbiamo una battaglia che stiamo facendo in Europa. La bandiera dell'Europa è qui con noi e noi la teniamo al nostro fianco, ma diciamo a questa bandiera dell'Europa che noi vogliamo che l'Europa faccia il suo mestiere, che è quello di promuovere la crescita, non soltanto l'austerity, che è quella di investire nel futuro, non soltanto in burocrazia. Se saremo in grado di fare tutto questo, l'inaugurazione della galleria e dei lavori non sarà soltanto l'avvicinamento tra Agrigento e Caltanissetta, anche se i sindaci naturalmente sono particolarmente interessati, ma sarà l'avvicinamento tra i cittadini e la pubblica amministrazione. È finito il tempo degli sprechi, inizia finalmente il futuro. Viva la Sicilia, viva l'Italia. Chiederei al Ministro del Rio, al Sottosegretario Vicari, al Sottosegretario Faraone. Mettiamo sullo sfondo la cartina della Sicilia, quella dopo che ha fatto vedere Armani, non questo, quella dopo. Eccola qui. Questi sono i numeri, perché sia chiaro, mentre Regione e Anas firmano, un miliardo e sette in corso, 150 milioni in gara, 2 miliardi e sette in programmazione. Finalmente si passa dalle chiacchiere agli impegni concreti. Grazie. 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 Grazie.